Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Confronto tra i tre candidati sindaci di Porto Sant'Elpidio che i prossimi 14 e 15 maggio si scontreranno per la poltrona di primo cittadino, ma in studio a Vera TV ieri sera non c'è stato alcuno scontro. Gianvittorio Battilaso, sostenuto da cinque liste civiche da Forza Italia e Lega, Massimiliano Ciarpella, espressione di quattro liste civiche, Onone di Centro e Fratelli d'Italia e Paolo Petrini, candidato del Partito Democratico e di tre liste civiche di centro-sinistra, si sono confrontati sui temi più importanti che riguardano la città. Dal turismo alla sicurezza, le politiche giovanili e la lotta all'erosione costiera hanno messo in luce due visioni di discontinuità, quella di Battilà e quella di Ciarpella, mentre per Petrini sono emersi elementi di innovazione in continuità con l'amministrazione uscente. E i diversi presupposti di candidatura si sono rivisti anche nell'ultima parte del dibattito, moderato dal direttore di Vera TV Gloria Caglioni, perché sono diversi i percorsi politici, ma soprattutto sono differenti le età e le generazioni. All'esperienza di Paolo Petrini, che ha già governato Porto Sant'Elpidio, Ciarpella e Battilà hanno contrapposto freschezza e distacco rispetto alle scelte di chi ha governato la città negli ultimi anni. Eccoci, la leva principale è il cambio di metodo, il cambio di passo, la freschezza e la voglia di discontinuità. Noi vogliamo porci in ascolto dei cittadini, pianificare per un'amministrazione coraggiosa che pianifica. Votare per il sottoscritto e per la mia squadra significa rendere il cittadino protagonista dell'azione amministrativa. Votare per noi significa votare delle persone che decide dopo aver ascoltato. Sono una persona perfettamente autonoma e indipendente, non ho padrini politici, ma hanno scelto me, perché era la persona migliore a disposizione. Ora non resta che attendere il risponso delle urne e come ha detto in chiusura Gloria Caglioni, che vinca il migliore.